Aspetta, Montemurro, De Mola, Iacovone Pietro, Dionetti, Marta Erdomini, all'unanimità. Bene, all'unanimità, approvate il punto si all'ordine del giorno. Ultimo punto, chiediamo ai signori consiglieri l'immediata esecutività del problema, possiamo come prima? Perfetto, come prima, all'unanimità, benissimo. Ultimo punto all'ordine del giorno, regolamento per l'istituzione del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Matera. Chi mi relaziona? Buonasera, abbiamo pensato che fosse necessario istituire la figura del garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza comunale perché ci sembrava anche per quello che ci è stato fatto che siamo capitale europea della cultura in qualche maniera istituzionarla con questa figura che riteniamo possa essere di aiuto anche nella proposizione di alcune tematiche di grande rilievo che grazie all'onorificenza noi possiamo portare avanti e quindi è stata fatta una commissione in cui abbiamo fatto un regolamento e abbiamo declinato ovviamente delle regole su quali saranno i compiti, quale sarà la sua nomina, la durata, l'incompatibilità e l'abbiamo portato prima in commissione e poi qui in Consiglio Comunale. Grazie, bene, allora possiamo chiedere ai signori consiglieri di votare questo regolamento? Vai. De Ruggeri, La Polla, Rubino, Buccico, Vena, Sansone, Morelli, Assente, Morelli, Toto, Casino, Bianco, Fragasso, Viziello, Assente, Cotugno, D'Andrea, Antezza Carlo, Assente, Sardone, Favorevole, Io sono sorda, uno non parla, Lamacchia, Tortorelli, Manicone, Sasso, L'Episcopia, Assente, Adduce, Antezza, Annunziata, Favorevole, Scarola, Iacovone, Antonio, Assente, Alba, Assente, Tralli, Assente, Trombetta, Trombetta, Assente, Montemurro, Assente, De Mola, Iacovone, Pietro, Assente, Lionetti, Materdomini, Bene, allora l'ultimo punto, il punto 8, viene all'unanimità? Sì. Viene approvata all'unanimità, bene, prima di concludere il consiglio c'è una... Prima di concludere devo dare una comunicazione sul prelevamento del fondo di riserva, sull'affidamento dei servizi alla società dei servizi locali, quindi è una semplice comunicazione, c'è il... si autorizza, è una comunicazione, comunico che è stato autorizzato il dirigente del servizio matrimonio ad affidare alla società servizi locali SPA il compito di supportare il servizio patrimonio nell'attività di analisi e ricognizioni immobili siti nel comparti PEP di via Lamartella e di via Gravina, nonché dei ricalcoli del costo del suolo a fine di recuperare dai soci delle cooperative edilizie i maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale per l'acquisizione di detti suori, di dare atto che la spesa pare a complessivi 19.866 eccetera eccetera e quindi dare ad atto che il responsabile del procedimento è il funzionale del servizio patrimonio, dottor Antonio Ventrella. Era una semplice comunicazione. Signori grazie e buona serata e soprattutto buona festa.